Musica E bello a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video Qui è Jabioz e oggi siamo tornati In un altro fantastico episodio Qui su Rainbow Six Age Ragazzi vi ringrazio tantissimo Per il sostegno che mi lasciate sotto ogni video Qui su Rainbow Spolliciate sempre tantissimo Lasciate tanti pollicioni in su Quindi anche per questo episodio cerchiamo di arrivare Come al solito a 12 like Io ci conto ragazzi E ragazzi questa è la postazione Questa è la roulotte ragazzi Io vi faccio vedere un piccolo cosa nell'intro Se si vede questa è la roulotte ragazzi Se si vede Questa è la roulotte Vabbè ragazzi Sto in vacanza E però come al solito Anche se sto in vacanza ragazzi I video non mancheranno Anche perché mi sono pre-registrato gli episodi E quindi non mancheranno Gli episodi sul canale Usciranno un video oggi Un video Domenica sempre su Rainbow E un mezzo alla settimana Dovrei registrare una challenge in famiglia Forza Ancora dovete Sa loro che va Comunque Spero che questo episodio di Rainbow vi piaccia Anche perché sono due partite Una giocata Pensano L'ho giocata tipo alle 5 di notte ragazzi È stata Ho fatto una tripla assurda Non vi dico con chi Lo vedrete già nella copertina Quindi Capirete che devasto ho fatto con quell'operatore E spero che vi piaccia Quindi Like Commentate qui sotto E condividete il video ragazzi E noi ci vediamo in partita Buona Visione VAMOS No 4.500 di fama 4.440 di fama Un po' me non me ne fregano Ma perché Io vada che faccio sponchile Mi porto una svega Io pure faccio sponchile Però sopra Io ho preso qualche fila col pompa Perché ho una tattica assurda Se fai a mettere la cam sull'elica Ok E la rompo O la rompite col pompa L'ho già rotta Oh 4.5 secondi Ma i banditti Due banditti Quali L'emico non ha trovato il contenitore Si cercheranno di localizzarlo Durante l'assalto Madonna Ho fatto il pelo Era Perfetto Guardate lontano il bilazzo Però Si prepara questo glass Qui ho andato esculato di merdo Vaffanculo Vaffanculo Ma non è solo l'attenzione Si da le leggi di guerra Ma non è in grado Ma non è in grado Scusate Scusate Non è in grado Già Già Ti ha fatto mazzuga Ma come fanno di scelta una area goal? Come fanno di scelta una area goal? Gli ha fatto il glitch che è sulla... Non può più rientrare Cosa? Eh fuori entrare è impossibile quando corrono prendermi io comincerei ma gioco c4 ma l'ammazzo lo stesso mancano 15 secondi mancano 15 secondi un operatore alleatore sono tutti da me anche fumando con la mano sola e qualcuno che bombetti c'è qualcuno che bombetti fai il mio giochettino fai c'è il il pesa manco c'è passo no ma è be... ma è... vabbè la scuola bar levati Giacomo la tiro io la tiro io vabbè devo dire che è tirata bene dai eh ma il giù l'altro mira regà non so dove metterlo lo metto qua come spazio non sufficiente non mi fa mettermi da qua nello spazio è insufficiente raga ce li ho qua e porca vacca ce li ho tutti tutti la tutti ma di dove stanno le riunioni si si oh questa non è superta lo potrebbe fare in world ma non lo fa ma non ho capito il motivo che cosa no aspettavo che si avvicinava non volevo filarlo oh mio dio Giacomo bella Giacomo bella è sopra no 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 indietro indietro di te ah qui dentro no 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 e non lo fa Giacomo qui la squadra d'attacco che c'è ragazzi freddo di che è già che parichiamo con uno che è il mio 's quando e dovete fare la botola, voglio provare a fare quello che fa noski che fa noski mi metto davanti là e non abbiamo un jager comunque gli altri, comunque gli altri sono tutti me ne ho conti dice attivazione telecamera ma c'è una e fate la botola, dovete baricare la botola solo cambio caricatore hanno montagne un colpo di bomba in faccia madonna a spotto io, spotto io eh, non l'hanno visto che cazzo spotto sei tu, sei di femma ma io so che prima o poi una kill eccolo da dietro, che benessere eh è sopra non viene da lì giocano eh, mira lì, mira lì con la pistola mi sono? sono un operatore alleato ah, abbiamo perso sono un operatore alleato ah, abbiamo perso io entrerei ora che c'è l'opportunità però poi sceliti io invece saremo questo è perché non non avrei fatto la botola vittoria alla difesa vittoria alla difesa nemici eliminati tutti tutti full team no, no per uno il tachanka almeno una kill ce la faccio sempre eccolo coi stivaloni io faccio un ultimo bene ma perché pepe fia sempre la realtà io alle 11 alle 11 quando mi stavo a vedare stavo a morire de sonno come sa che era la noia poi ho detto muovo da fare una partita poi tutte le partite che perdevo mi veniva sempre più sonno poi quando ho cominciato a vincere quando eri quando mai young oba davvero io chiamo oba a uva ti chiamo io mi devo dire a uva me ancora 10 secondi banana cinque secondi ricarico ma oba vi fa schifo ma oba vi fa schifo il drone nemico è il civico il consumatore di biorischio il cazzo di drone un mafato fa spunchi su mamma e ala attivazione telecamera ma il pari quale c'è scuola ma e voi qui e per più 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 cosa stanno raga esco di fire dentro entrate c'è la scuola occhio no che fa il giro si da creta vedi i difensori hanno eliminato tutti i nemici per me un kill di cavera faccio bordello l'ho vista no l'ho visto l'ultima volta si pensa che si va per crescere raga mi dovete fare la botola sopra la cucina vado io e me dovete mettere i bandit dietro mamma mia che figura di merco ho fatto il drone nemico ha individuato il contenitore di meridio ma posto ho ho l'avevo l'avevo davanti lei io gli ero di spara a lei ho in senso a sparare ho tipo mancata di bruttissimo perchè mi è sfuggito il dito ancora dieci secondi qua c'avete una barricata raga che mi è sfuggito il dito ma no che l'ho fatta dovete entrare in giardini perchè perchè devi chiudere qua no no non chiude barricata è qua raga barricata è lì raga vi prego non ho fatto il drone come non barricata è qua mi ce lo metto io con eco per favore una barricata Proto ce l'hai una barricata? si ma sono capito non posso ok uccidi quello che te sta lì vicino non so chi è raga se muoro se muoro c'avevi da responsabile della mia morte ve lo dico muoro muoro si già se muoro e muoro e muoro e wallbang e wallbang e wallbang ma ne devo andare da qua raga ma non muore sto fiuzzo ma qua c'è e ho fatto dieci colpi di pistola beh resta solo un operatore alleato c'è il mira aperto c'è il mira aperto c'è il mira aperto ma donna vai Ciomi c'è il miro pedo inserimento tra 10 secondi. oddio c'è il pompa dove c'hanno ancora 5 secondi devo prendere il cittadino contenitore di più rischio individuato qui fiume oggi è sporchi e la sua tutta la volta è un'amu what the fuck quando vuoi che è l'ultima io dico capire io dico valkyrie io al chile io allora ho distrutto tutti i bandit e e ho fatto fuori e ho ferito tricciato bene c'è li? eh li li si non ne vuoi vengare mi sono riferito ragazzi dentro c'è solo Jäger dentro c'è solo Jäger che m'ho visto si è ferito 15 secondi dentro dentro siiii 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 ancora 10 secondi forza barricata il nemico non ha trovato il contenitore no no siiii chiudi 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 ma questa partita comunque me la posso mettere senti tu ragazzi 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 l'episodio è giunto al termine spero che vi sia piaciuto se fosse così lasciate tanti pollicioni in su commentate se non siete iscritti vi iscrivete mi raccomando e condividete il video e ragazzi cosa importantissima venitemi a seguire anche su instagram e sui social in generale per rimanere sempre aggiornati ma soprattutto venitemi a seguire su instagram che pubblicherò le foto che sto qui in campeggio ragazzi quindi venite anche lì a seguirmi arriviamo a tanti mila mi seguaci ragazzi venitemi a seguire su instagram e commentate nelle foto un bel commentino e ragazzi da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bene ragazzi